Buongiorno a tutti, siamo qui sul ponte mobile che non si alza, oggi lo intitoliamo Attaccaci una pezza. L'altra settimana c'erano i lavori in corso, perché qui se vi ricordate c'era quella rottura dell'asfalto che avevo fatto vedere nel servizio antecedente. Adesso mi interessa fare questo, dovevo venire a riprenderlo, non ho avuto tempo. Siamo qui sul polino, hanno iniziato i lavori per sistemare le crepature che si erano formate. In previsione cosa? In previsione farò Pisa, penso. Poi in previsione io ho fatto un anno qualche lungo, probabilmente lo farò mai. Ecco, adesso noi un ponte nuovo, che sono stati spesi dei soldi, a parte che qui, ecco, quindi un ponte nuovo, adesso noi lo dobbiamo tenere così con Attaccaci una pezza, perché quando è stato ristrutturato, prima dell'estate, si è già rotto. E quindi ecco il bel lavoro che è stato fatto. Attacchiamoci proprio una pezza. Vediamo. Io non so se il lavoro è finito così, ma a quanto pare le impalcature le hanno tolte. Il ponte mobile che non si alza, in più attaccaci una pezza. Da questa splendida visuale di Cesenatico, non ho parole. Gabbiani aiutateci voi. Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna. Siamo qui sul ponte mobile che è stato ristrutturato e inaugurato da poco. E praticamente c'è già una rottura nell'asfalto. non so da che cosa è derivata, ma inizia già. Guardiamo. Qui abbiamo già una crepa. Queste righe qui? Sì, ma questa è anche pericolosa. Valutiamo. Quando è che l'hanno... Quando è che l'hanno... Prima dell'estate, mi sembra, vero? Guardiamo che c'è già un inizio. Adesso andiamo a vedere anche dall'altra parte. Quanto dureranno queste crepe? L'abbiamo? Ah, anche qui. Ah, questo si crepa come quello, fra un po'. Guardiamo. No comment. Ah, guarda, lì nella congiuntura, anche lì. Sì. Questo fra un po' si rompe come di là. Questa è la situazione del ponte mobile di Cesenatico, che è già la terza volta che è stato sistemato, soldi spesi di noi contribuenti. E questa è la situazione ad ora. A finire che questa volta la ristrutturazione la dovremmo fare molto prima. Dal ponte mobile di Cesenatico, buona giornata e ai ai. Ecco qua il cartello. Ricordiamo che l'ultima volta sono stati fatti nel 2012. E' stato rifatto, perché adesso sono state rifatte le asse di legno perché si erano rovinate subito. Adesso, a quanto pare, si dovrebbe fare una pavimentazione. Ecco il ponte mobile che non è mai stato alzato, però molte volte è ristrutturato. E questa volta ci costa 147 mila euro. Ecco qua. Da Cesenatico, da Gioia Miglia Romagna, vi saluto a tutti. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.